come tutti i grandi pezzi di successo effettivamente oggi invece non è così, oggi proprio perché si è capaci di armonizzare grazie allo studio che i giovani hanno conseguito allora uno non si contenta più di mettere quattro accordi in un giro armonico per fare una canzone, si ricercano delle cose un po' più sofisticate nelle armonizzazioni, però è chiaro che il pubblico quelli che poi diventano i fruitori delle canzoni della musica di oggi hanno naturalmente il giro armonico incorporato quasi tu nasci che già di per sé conosci e sapresti fare un giro armonico anche se non hai studiato musica e allora questo va contro la naturalità, la professionalità di oggi mettici poi tutta la strumentazione attuale fatta di computer di strumenti sintetizzati che più ne ha più ne metta cioè se puoi farti oggi un disco in una stanza da solo basta che tu sappia suonare una tastiera e questo è tutto a dire, questa è la differenza una cosa, il primo capito, il libro si apre con la figura del jukebox tra l'altro mi fa pensare a sabato scorso che sono stato ospite a un compleanno di un amico produttore proprio in una villa delle parti di Via Noventana dove c'era un jukebox molto bello tra l'altro del 1956 mi sembra fosse ecco, adesso, forse cosa rappresentava a quell'epoca il jukebox questa figura che ormai è diventata un cimelio della memoria storica effettivamente di quei tempi infatti, guarda, io l'ho reso in un certo senso il protagonista narratore di questo mio libro perché come ti dicevo prima il sottotitolo è Memoria di un jukebox ecco perché il libro si apre appunto con l'imbagine del jukebox il jukebox è il vero protagonista di questa storia che cosa poteva rappresentare per noi era come un iPod per un giovane d'oggi ecco, un po' più grande evidentemente era impossibile da portarselo dietro però era un po' al servizio di tutti quando si andava al bar di riferimento bastava metterci 50 lire dentro e si gettonavano le canzoni che conteneva insomma, ecco, quindi era che poi erano le canzoni di maggior successo che ovviamente tutti i ragazzi apprezzavano in quel periodo per cui erano gradite anche quando non venivano gettonate da tepe direttamente per dire hai capito? da musicista, da detto dei lavori da protagonista proprio della musica di quei tempi e anche di oggi come... Giudi, questo... quel fatto che questo cimelio appunto questa figura ormai è soltanto un suggestivo ricordo nella memoria poi l'altro giorno l'abbiamo messo in funzione effettivamente messo in funzione si sentiva benissimo e questo mi ha creato dei ricordi a parte le note a marcord non indifferenti poi a livello proprio di emozioni, emotivo sicuramente ma quali sono gli aspetti negativi negativi e positivi appunto di questo passaggio epocale anche poi per quanto riguarda quella che sono gli oggetti appunto gli strumenti proprio che diciamo che servono per fruire appunto della buona musica beh guarda intanto chiariamo subito una cosa ogni epoca evidentemente va avanti e usa poi il progresso come meglio può è evidente che oggi con una scatoletta grande quanto un pacchetto di sigarette ci puoi mettere dentro 20.000 canzoni e portartelo in tasca e sentire quando ti pare già questo insomma mostra la grande l'enorme differenza che c'è appunto con le possibilità ma con questo non si è perso qualcosa Don Bacchi è la stessa cosa che dicevo prima quando parlavo degli autori della musica leggera cioè prima facevi delle canzoni che erano alla base un istinto scrivevi una canzone perché la sentivi e non con lo scopo di arricchirti vendendo magari milioni di dischi la prima spinta era quella emozionale cioè scrivevi una bella canzone perché naturalmente veniva fuori diciamo seguendo uno schema piuttosto semplice e oggi ripeto per scrivere una canzone ti metti davanti a un computer insomma ecco quindi c'è comunque poi una freddezza di fondo e soprattutto c'è la voglia di riuscire a fare un prodotto un prodotto che poi possa essere venduto e quindi arricchirti grazie a questo è la stessa cosa con il jukebox il jukebox era come dire la valigia dei sogni noi ragazzi ci mettevamo fuori al bar d'estate seduti ai tavolini e di volta in volta andava qualcuno a gettonare qualcosa e si ascoltavano le canzoni più piacevoli in compagnia tutti insieme anche questo è un dato di fatto era servivo per aggregarci per sentire la musica e goderla insieme oggi non è più così oggi giusto un concerto a uno stadio puoi andare per stare insieme ma guarda casa non è mai uno stare insieme per come dire per comunicare ma è uno stare insieme per stare ciascuno poi da solo saltando tutto insieme cantando insieme all'artista ma tutto sommato c'è poca intimità ecco quella invece che di cui godevano i ragazzi della mia generazione anche lui si ascoltava la musica però poi si parlava anche di altro insomma certamente oggi oggi quando senti la musica è la corona sonora forse della giornata ecco direi direi che dovrebbe essere così io quando sento parlare per esempio dei ragazzi delle canzoni di oggi e gli sento sempre dire ah bello quel riff hai sentito quel suono ah la batteria l'hanno presa da quella non so di Steve Gadd oppure il basso ah quell'altro eccetera eccetera cioè si parla sempre di cose tecniche non ho mai sentito nessuno che dicesse ah ho messo questa canzone mentre facevo l'amore con la mia ragazza ecco questa è la differenza prima avveniva questo cioè la musica serviva proprio per avere un contatto e godere di quella musica in un momento così importante e particolare oggi questa cosa qua io non la sento più dire poi magari accade lo stesso però vorrei capire con quali canzoni oggi puoi dire l'ho messa in sottofondo mentre stavo con la mia ragazza insomma ecco diventa una cosa molto movimentata adesso capisci oggi metti il rap sotto e vabbè te ne freghi non certo come comunque quando poi c'è stata l'epoca beat di cui tu parli nel secondo capitolo appunto che ricordo hai dell'epoca beat appunto legata a Don Baghi a Don Baghi